I numeri uno delle più grandi corporation italiane e internazionali si sono dati appuntamento venerdì scorso al Ministero degli Affari Esteri e alla presenza del Ministro Emma Bonino per discutere sul futuro dell'economia mondiale e degli investimenti in Italia. Questo è stato l'Ibac Italy, un incontro a porte chiuso organizzato da Sir Martin Sorrell, amministratore delegato del Colosso della Pubblicità WPP e guru mondiale della comunicazione che tra l'altro ha organizzato la campagna elettorale di Barack Obama e David Cameron. Sir Martin, quali sono le vostre impressioni e le vostre conclusioni sull'economia di questa mattina? E il dinner last night. No, è stato eccellente. Credo che c'erano 80 o meno investitori, queste sono persone che hanno grandi operazioni in Italia e ovviamente all'interno del mondo. e io credo che tutti vengono apprezzato con la volontà del governo. Ovviamente abbiamo il Ministero Bonino, abbiamo il Prime Ministero qui. L'ultima notte a dinner abbiamo abbiamo un po' di parte di l'Italiano del Cabinet. Quindi credo che questo indica che l'Italia, se posso usare una frase fra l'U.K. quando il Prime Ministero Cameron ha detto che l'U.K. è open per business e il Chancellor Rosbord ha detto che. Certo, lo che il Prime Ministero ha detto a la mia meeting oggi è, e che è stato rinforzato da le persone che erano qui erano, l'Italiano governo è open per non solo per business, ma per direttore di investimento. Quindi penso che sono stati optimizzati. C'è una strategia, Destination Italy è una strategia molto complessa, 50 point strategia, ma sono priorità di quello che hanno di fare. Io penso che ancora ci sono problemi strutturali, come dobbiamo, e io sto dicendo perché vogliamo essere involvati in questo modo, come dobbiamo implementare in un modo effettivamente in tutti i paesi del mondo, o in tutti i paesi del mondo, o in tutti i paesi del mondo, perché l'Italiano manufattamento è forte, è benvenuto, è tecnologicamente molto forte, competere molto bene con la Germania in gli exporti mercati, e quando la Germania prospersi, vediamo che la Norte dell'Italia prospersi anche. Quindi, piccoli e mediano compagni in Italia sono stati molto successivi in tecnologia e in manufattamento. Quindi, è veramente strategia e struttura, e poi, credo, comunicare l'Italia dell'Italia. L'Italia ha delle fortissime fortissime. Ci sono grandi studi di compagni che sono stati molto successivi, ma non abbiamo raggiunto di comunicare l'Italia. Quale è la posizione e il ruolo dell'Italia nelle investimenti internazionali? Beh, in Italia, credo che perdiamo il fatto che l'Italia è una delle cinque migliori in Europa. È la seconda più potente manufattura in Europa, dietro la Germania, e l'Eclipsa è l'Unione. Quindi, dovete guardare, credo, come un paese che ha un GDP di 2.2 trillioni. Ok, e ora, America è 16, e China è about 8, e Japan è about 5, e Germania è about 4, e poi hai l'U.K., Italia e Spanio, che sono circa 2 o 3 trillioni. È una grande economia. E una economia, e non c'è no dubbio, l'Italia economia ha avuto un tempo di difficoltà per la ultima 5 o 10 anni. Ma prima che si vengono a questo, che credo che siamo arrivati a questo, come la prima ministra ha avuto in questo momento, credo che l'opportunità è molto significato, perché è un grande mercato. Ci sono 60 milioni di consumatori. Questo è un paese che c'è un paese che c'è un paese di opportunità. E c'è un punto di vista contraria di investimento, certo? Quando tutti gli dici no, è il momento di dire sì. Similamente, quando tutti gli dici sì, è il momento di dire no. I think Italy strikes me as being where Spain was a year ago, where we saw a little bit of an upturn. And I would say France is still on the down. Italy is certainly bumping along the bottom, maybe improving. And Spain is on the up. So all is not lost. And by the way, your question, one of the things that when we look at the data on Brand Italy, the thing... We have a small role. Well, no, no, it's not that, no. I think what we find is that the Italians have lost self-esteem. That Italians don't feel good about themselves. I think we have to reestablish that confidence. Because if you actually look at the strengths, if you look at manufacturing, technology, you know, we have HR'd up in Venice with this park, in fact, a sort of a campus of new media companies. This is a good you'll find anywhere in the world if you went to Bangalore or Sao Paolo or Silicon Valley. Really good. Very, very intelligent. Highly trained. Strong university. Back into it. So technology, manufacturing, culture, all very strong. The fashion industry, the food industry, agriculture, I mean, very strong. So I think we lose sight because we've been gloomy since 2008, since the Lehman Crisis. We lose sight of the opportunities, and the opportunities are very significant. So all is not lost. Before you mentioned Sergio Marchionne, do you think Italy needs more visionary manager? It's a problem of leadership. No, you know, you have Vittorio Callao, who runs Vodafone. I mean, you know, he's done an incredibly good job with Vodafone. The sale of their interest in Verizon has been extremely successful, and that's been reflected. But, no, I think Italy has very good managers. It has very good companies. But, you know, making the sort of choices or decisions that Sergio Marchionne made are very difficult because of all the implications on them. But you've got to have the courage, which he has. You've got to have the commitment, which he has. I mean, I can't remember anybody who works as hard as he does. He certainly is 24-7. And you've got to have that vision, and he clearly has it. And he is totally determined. And if you look at Fiat and its success, and you look at where it is now, as to where it could have been, you know, five, six, seven, eight years ago, he's done an incredible job. So we can look at 2004. I mean, you know, your colleague said he doesn't win a, you know, he's not very popular in Italy. But my view was he's not in business to win a popularity contest. But if you look at the growth of the company, it's been fantastic. So we can look at 2004 with an optimistic view. Yeah, I mean, if I look at our budgets, they're better than 2013. We had top-line growth here in Italy. We have about $400 million of revenue here, $450 million of revenue, which is disproportionately high. We have a strong position in Italy. We have 2,000 people here, mainly in Milan and Rome. If I look at the business last year, top-line growth, but bottom-line was down. Next year, or this year, 2014, top-line growth, again, a bit stronger, maybe about 3% or 4%. And in addition, we'll have strong bottom-line growth. So I feel, I would say, neutral to positive, if I'm being conservative, right? Neutral to positive about Italy in 2014. Okay. Thank you very much.